Buonasera Gobbi, buonasera Gobbe e buonasera a tutti gli amici di Gromosoma Bianconero Allora, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione attuale del nostro mercato lo faccio dandovi qualche informazione, qualche precisazione ma soprattutto esponendo il mio pensiero in merito a quello che sta accadendo in questi giorni alle varie polemiche sulla situazione Cristiano Ronaldo, alle polemiche su Giorgio Ghiellini e comunque sia, ne parliamo insieme, cerchiamo di trovare un po' la quadra del discorso anche perché per me ci sono delle forzature e scusate ma ho occhiali sporchissimi delle forzature e dei discorsi che non filano, non quadrano soprattutto da parte di molti tifosi juventini e questo ripeto è il mio personale parere vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un commento e magari mettere un bel like Allora, partiamo dal discorso più importante con quella CR7 CR7, CR7 c'è il problema perché CR7 non doveva aggiornare a IUPO perché CR7 c'era 500 magliette messe addosso da qualsiasi testata giornalistica da qualsiasi pagina inerente al mondo bianconero su Instagram CR7 non era più un giocatore da IUPO quando io dico da molto tempo CR7 non ha avuto nessun tipo d'offerta CR7 non è stato cercato da nessuno per il suo l'autoingaggio CR7 non ha mai detto di voler andare via dalla IUPO e non lo ha mai comunicato CR7 ha soltanto finito la stagione con la Juventus è andato in vacanza e è ritornato CR7 non ha fatto niente di strano magari soltanto poteva mettere un post dicendo sto tornando pronto per la nostra stagione non lo ha fatto però si crea la polemica perché è Cristiano Ronaldo perché a questo punto l'avrebbe dovuto fare Bernardeschi l'avrebbe dovuto fare Di Bala l'avrebbe dovuto fare Morata l'avrebbero dovuto fare tutti i giocatori di tutte le squadre ma se non lo fa CR7 si crea la polemica la polemica Già la Montona d'Arte e gli anti-juventini ci si mettono i juventini a rincarare la dose però purtroppo il nostro è un popolo molto ampio, molto vasto e ci sono anche tra le nostre file i stolti e ce ne sono molti e se qualcuno si sente stolto mi dispiace ma è il mio pensiero quindi dico CR7 è il mio modesto parere e per le mie informazioni non andrà via da Torino uno perché non l'ho fatto sapere due perché non ci sono state offerte tre finirà il suo contratto alla Juventus se ci sarà il rinnovo come si era parlato come vi avevo detto ben venga se non ci sarà la Juve sopravviverà anche senza CR7 perché è sopravvissuta quando se ne sono andati via tantissimi giocatori che hanno fatto la storia della Juve e sopravviverà anche quando andrà via Cristiano Ronaldo e detto questo possiamo parlare anche di Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini è sparsa la voce che ha chiesto un aumento per esempio che prende 3 milioni d'euro ha chiesto a 5 ancora questa notizia non è ufficiale è filtrata non so chi l'ha saputo chi l'ha detto chi l'ha annunciato io personalmente dalla mia fonte non ho saputo nulla non ho certezze quindi non mi esprimo e posso dire la mia se Giorgio Chiellini ha chiesto 5 l'anno vedendo gli ingaggi che sono stati regalati negli ultimi anni dalla gestione Marotta Paratici alla Juventus sta chiedendo anche poco perché se immagino che prende 4 Bernardeschi 3 Rugani 7 Ramsey 7 Rabiot Giorgio Chiellini è nel pieno diritto di chiedere 5 milioni d'euro l'anno mio personale anche questo molto vinabile e molto discutibile vorrei sapere anche la vostra su questo ritorniamo al fatto del mercato dopo aver chiarito il mio pensiero su Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini situazione acquisti esuberi è molto importante e è molto sottile la linea di problematica che contrappone un acquisto ad un esubero se non si manda via un giocatore non se ne può comprare un altro la Juve ha già 6-5-6 esuberi rosa se la Juve non smaltisce la rosa non può comprarne altri e è una cosa logica questa è una situazione in cui noi stiamo pagando ancora gli errori societari che vanno da 2-3-4-5 stagioni prima quando abbiamo preso giocatori vecchi logori o comunque sia a fine carriera o falci ideali da infortuni e li abbiamo fatti o dei brocchi e li abbiamo fatti degli ingaggi faraolici quindi di difficile collocazioni nelle altre squadre perché in questo momento percepiscono un ingaggio non alla portata di molte squadre detto questo è anche molto difficile quando tu devi smaltire e snellire la rosa che arriva una squadra che sa che per te quel giocatore è un esubero e viene con un'offerta ricca ma viene sempre sotto costo e se la politica della società quest'anno è non mettersi a lo dico volgarmente a pecora per farsi comunque sia fregare dalla concorrenza tiene la lineatura e quindi sarà molto difficile cedere da una parte io sono d'accordo con la linea di Cherubini che comunque sia dice il giocatore lo paghi quanto dico io però da un'altra è un'arma a doppio taglio perché ti impicca il mercato in entrata perché non vendendo tu non liberi un posto e non puoi neanche comprare queste sono cose che io mi stanco perché sono molto semplici come concezione però purtroppo ci sono troppe persone che parlano e non ragionano quando dicono queste cose è il mercato da io e lo sanno noi stiamo raccogliendo le macerie di mercati sbagliati e gestioni sbagliate a livello contrattuale delle precedenti dirigenze anzi delle precedenti dirigenze prima con Marotta Paratici e dopo solo con Paratici e purtroppo ce ne stiamo accorgendo adesso ma io lo dissi già un po' di tempo fa e qualcuno mi diceva no perché Marotta ha fatto bene perché Paratici hanno fatto bene queste sono le conseguenze le conseguenze sono da Clascosta De Sciglio Rugani tutta Rabiot Ramzi tutta questa gente Bernardeschi tutta questa gente che adesso ti trovi sul gruppone e non riesci a dar via di questi escludo soltanto Rabiot detto questo Locatelli andiamo a Locatelli io Locatelli continuo a ripetere Locatelli per me e per quanto mi viene detto e per quanto io so è un giocatore un prossimo giocatore della Juventus la cifra si è girata tra i 35 e i 40 milioni d'euro deve essere definita definita la modalità di pagamento quindi il frazionamento del pagamento di quanti anni sarà e i bonus quelli facili e quelli difficili che poi andranno a riempire il pagamento per portarlo a quei 40 milioni di euro famosi che vuole il Sassuolo l'operazione sarà molto simile credo alla chiesa con i primi due anni di prestito e il riscatto e diciamo il titolo definitivo del cartellino al terzo anno però balla balla che io sappia o un anno soltanto di prestito o due anni di prestito e un terzo è questo diciamo la forbice che divide le due società che però non credo che avranno problemi anche perché il giocatore ha dichiarato apertamente di voler venire alla Juventus procediamo i giocatori ne subito ho notizia che De Sciglio è stato messo sul mercato e mi dice la talpa e mi conferma che non sarà sicuramente un prossimo giocatore della Juventus e qui mi si è accesa la lampadina potrebbe arrivare un terzino Florenzi ricordate che ve lo dico da un bel po' di tempo Rugani e Bernardeschi entrambi sono stati richiesti da Maurizio Sarri oggi ho avuto la conferma e ve lo ritico Pjanic Pjanic mi comincia a ronzare sta voce intorno che Pjanic potrebbe essere un acquisto a zero se si libera Ramsey Ramsey è tra due squadre Tottenham e Wolverhampton sono riuscito a farmelo dire Tottenham e Wolverhampton ricordate forse Paratici ci farà un favore se solo riprende magari dopo tutti i danni che ha fatto qualcosa di buono ce lo farà a nostro favore Cagliogiorgi Cagliogiorgi ieri ho fatto un post sulla live di Croposano Bianconero ho detto che era molto vicino alla Juventus confermo che è molto vicino alla Juventus e confermo il fatto che il Benfica ha offerto più della Juve però c'è una cosa Cagliogiorgi vuole Spagna o Italia quindi dalla Spagna non sono arrivate offerte dall'Italia sono arrivate Juve e Mila e la Juve ha superato il Mila quindi a meno che che l'entourage di Cagliogiorgi o qualcuno vicino a lui lo convinca ad andare al Benfica e allora cambieranno le carte in tavola Cagliogiorgi potrebbe essere la quarta punta che la Juve cerca per completare il roster offensivo e mi sembra di non aver dimenticato nulla fino alla fine forza Juventus